Buongiorno a tutti Chrome nella sua versione 36 beta implementa una feature javascript attesa da molto tempo che si chiama object.observe e consente di ricevere notifiche ogni qualvolta un oggetto javascript è di nostro interesse subisce delle variazioni l'esempio che vedete adesso in questo momento inquadrato è un veloce sintesi del comportamento dell'oggetto che come vedete è molto molto semplice c'è un metodo che si chiama observer che viene invocato su una particolare variabile e una funzione viene invocata a sua volta ogni qualvolta proprietà di quella variabile e di quell'oggetto vengono cambiate con queste informazioni possiamo utilizzare produttivamente object.observe cercando di costruire un nostro semplice data binder tra il DOM e il javascript vediamo un po' come partiamo con un esempio vuoto e per le finalità del nostro esempio ci accontentiamo di far modo che quello che si è inserito all'interno dell'input venga salvato in una variabile name come indicato dalla proprietà datastore e a sua volta la variabile name o meglio la variazione sulle variabili name vengano riportate all'interno dello span che ha una proprietà datashow, un attributo datashow che è valorizzato su name che è la variabile che vogliamo che venga stampata all'interno di quel DOM costruiamo la nostra semplicissima classe javascript la chiamiamo data binder anche se ovviamente il nome è completamente arbitrario e per prima cosa utilizziamo l'evento input applicato all'intero documento per ricevere notifiche ogni qualvolta dell'utente interagisce con un meccanismo di input sulla nostra pagina quindi in questo caso ogni qualvolta dell'utente inserisce i dati all'interno dell'input con datastore uguale a name la funzione updatevars è molto semplice e si compone di un controllo e diciamo un'azione dispositiva all'interno della funzione updatevars andiamo a dire se l'oggetto, l'elemento del DOM che è stato aggiornato in questo momento contiene la proprietà store quindi l'equivalente dell'attributo datastore allora all'interno del nostro oggetto vars andiamo a memorizzare una proprietà dal nome corrispondente al valore dell'attributo datastore contenente come valore il valore del campo quindi in questo momento dovessimo interagire con quell'input che vedete nella nostra pagina andremo a scrivere all'interno di vars una proprietà che si chiama name valorizzata con il testo che ovviamente l'utente ha inserito all'interno del campo di input ora viene la parte interessante noi possiamo adesso a questo punto chiedere al browser di essere notificati ogni qualvolta l'oggetto vars viene modificato in qualcuna delle sue proprietà ogni qualvolta questo succede chiediamo che la funzione update DOM venga invocata la funzione update DOM anch'essa molto semplice è il cuore di questo esempio e proprio ci dà la possibilità di capire quanto si semplifichi questo tipo di operazioni rispetto al passato la funzione update DOM riceve un array di cambiamenti quindi tutto ciò che cambia all'interno dell'oggetto monitorato ci viene passato attraverso l'argomento di questa funzione tutto quello che dobbiamo fare è iterare su questi cambiamenti come facciamo a riga 15 e ognuno di questi cambiamenti contiene alcune informazioni il nome della proprietà che è stata modificata all'interno della proprietà name che vedete a riga 17 il tipo di operazione di modifica che è stata fatta se è una creazione, un aggiornamento, una cancellazione o altro e all'interno della proprietà object che vedete a riga 18 l'intero oggetto così come compare dopo la modifica in più per ogni cambiamento anche se in questo caso non lo stiamo utilizzando abbiamo anche la possibilità di recuperare il vecchio valore della proprietà modificata quello che facciamo in questo semplice esempio è scorrere su tutte le modifiche segnalate e andare a cercare nel DOM un elemento il cui attributo Datashow sia equivalente al nome della proprietà modificata se lo troviamo andiamo a modificare il suo contenuto testuale inserendo il valore contenuto nella proprietà vars dal nome equivalente a quello dell'oggetto nel quale stiamo inserendo questo testo con queste poche righe di codice sono meno di 30 righe di codice e ricordandoci di ovviamente creare un'istanza del nostro datebinder allo start dell'applicazione possiamo già sperimentare la bontà della nostra libreria nel momento in cui andiamo ad inserire il testo nel nostro input automaticamente lo span reagisce stampando il testo inserito questo perché l'evento input viene catturato e il testo inserito all'utente viene salvato in una variabile all'interno dell'oggetto vars e questo salvataggio attiva la funzione che abbiamo memorizzato grazie all'Object.observer la quale si prende in carico gli step necessari per la stampa della stesso valore scritto dall'utente all'interno dell'oggetto DOM con attributo Datashow valorizzato con lo stesso nome dell'attributo Datastore dell'input quello che abbiamo appena fatto è ovviamente molto molto semplice ma è già generalizzabile quindi nel momento in cui noi non abbiamo più un solo copia di valori ma dovessimo averne due il comportamento è assolutamente è assolutamente ancora valido ok quindi abbiamo costruito un semplicissimo data binder in meno di 30 righe di codice che però all'interno dei vincoli che abbiamo imposto funziona perfettamente è già sufficientemente flessibile da poter essere generalizzato e spero di avervi incuriosito sulle potenzialità di Outlet.observer e vi ringrazio per l'attenzione alla prossima e vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio per l'attenzione a tutti i ragazzi